Sono convinto di essere il miglior podcaster d'Italia e quindi no, scherzo. Senterai il nuovo Lussar, penso di avere fortunatamente una mia identità, come anche Luis, semplicemente non sono il camaleonte di nessuno come non lo è lui, quindi siamo due persone completamente diverse e due professionisti anche. Cerbero è un qualcosa che si è evoluto tanto nel corso del tempo, a Roma si dice partiti con una scarpa e una ciabatta e fortunatamente arrivati a discreti risultati. Faccio lo streamer ed il podcaster e anche il personal trainer in pensione. Il dottore Confederico me l'ha proposto semplicemente perché sono bravissimo, sono convinto di essere il miglior podcaster d'Italia e quindi no, scherzo. Me l'ha proposto e ho detto proviamo, perché no? Ed è stato, devo dire, anche molto umile ad accettare le mie critiche, si è molto aperto al confronto stimolante e ci stiamo reciprocamente dando qualcosa in termini lavorativi. Diventerai il nuovo Lussar, penso di avere fortunatamente una mia identità, come anche Luis, semplicemente non sono il camaleonte di nessuno come non lo è lui, quindi siamo due persone completamente diverse e due professionisti anche. L'inizio del Cerbero è stato sicuramente stimolante perché la realtà del podcast era un qualcosa di sconosciuto, un oggetto misterioso e quindi ci siamo un po' inventati, se così si può dire, podcaster, poi spesso ci hanno detto non siete un vero podcast per varie motivazioni, ma le etichette servono anche a poco. Siamo un gruppo di amici, un team di lavoro che da divertiti siamo diventati dei piccoli microprofessionisti. Cerbero è un qualcosa che si è evoluto tanto nel corso del tempo, a Roma si dice partiti con una scarpa e una ciabatta e fortunatamente arrivati a discreti risultati. Il nostro pubblico è più o meno sulla nostra fascia di età, quindi tra i 19-20 ai 35, più o meno questo è. Principalmente sono studenti, quindi indipendentemente dal genere ci seguono magari nelle pause di studio o nelle pause di lavoro, quindi o studenti o lavoratori compresi in questa fascia d'età. Poi c'è anche una parte di pubblico un po' piccolina ma è abbastanza minuta purtroppo perché comunque ci piacerebbe ma evidentemente siamo un po' vecchi per loro e posso capirli. Per quanto riguarda il paragone con la zanzara di Twitch, dei social, io ho fatto specificatamente questa domanda a Giuseppe Cruciani quando è stato nostro ospite e anche a Parenza. Lui stesso ha detto no, non in senso dispregiativo fortunatamente, ha detto no, siete una cosa diversa. Sicuramente abbiamo imparato qualcosa, abbiamo rubato anche un po' da Parenza e da Cruciani come anche dal nostro grande maestro Benson. Sono dei maestri che ci hanno comunque formato indirettamente, consapevolmente, non consapevolmente, però anche in virtù del mezzo diverso, un medium diverso del nostro, chiaramente le derivazioni non sono le stesse. Poi ci sono delle similitudini, indubbiamente loro sono stati avanguardisti in quello che fanno. Nuovo talk show? Penso di sì, penso sia l'evoluzione naturale, un medium diverso, poi spesso i comportamenti umani sono gli stessi, cambiano guscio, semplicemente. Quindi bisogna avere l'abilità anche di trovare lo spazio giusto. Twitch è stato esattamente questo per noi, l'espressione di una parte del nostro carattere all'interno di un contesto live, quindi non poter tagliare nulla ci ha sempre dato quella carica adrenalinica. L'ospite migliore che abbiamo avuto al Cerbero? Ti posso dire che mi sono tanto emozionato con Dargen D'Amico, perché l'ho sempre considerato dal suo primo disco Musica senza musicisti e poi Divizzi di Forma Virtù, un vero e proprio poeta per me. Cruciani è anche stato molto importante, come del resto Parenzo, proprio per questo discorso sono stati un po' i nostri padri. L'ospite che mi ha deluso di più durante un'intervista al Cerbero? Ma devo dire che al momento non me ne vengono, non perché voglia fare il Demo Cristiano. Sinceramente, oddio, ci sono un paio di colleghi forse, che secondo me semplicemente non riescono ad esprimersi bene in live. Funzionano in altri spazi, però sarebbe indelicato citarli adesso. In generale sono sempre riuscito a prendere qualcosa di positivo da ogni scambio, anche nelle discordanze. Cosa vuol dire in Italia fare i creditor adesso? Praticamente essere mal tollerati, non solo dalla popolazione, ma anche dalla configurazione fiscale. Sì, noi lanciamo, diciamo così, una iniziativa chiamata il No Stream Day, in cui chiedevamo delle cose alla piattaforma, perché secondo me è assolutamente legittimo provare a migliorarla anche con movimenti di questo tipo attivi, quindi che siano sempre propositivi e mai distruttivi. Dal futuro di Twitch, secondo me, dipenderà in primis dai creator. Quindi cercare di portare qualcosa che manca in uno scenario, perché alla fine prendendo in esame il nostro bagaglio, il Cerbero ha funzionato perché abbiamo riempito un vuoto. Quindi il consiglio che darei in primis a chiunque si approcci a Twitch è questo, cercate di individuare una nicchia, una fetta di mercato inesplorata e partire non con l'obiettivo assoluto della fama, del successo, dei soldi. Lo so che sono anche retoriche facili, però molto spesso questo diventa fagocitante per il creator e va ad inficiare la spontaneità che perlomeno all'inizio deve esserci. Poi i movimenti delle piattaforme non sono facili da prevedere, cambiano velocissimamente, sicuramente Twitch è ancora un monopolio fondamentalmente nell'ambito del live streaming e quindi ha molto da dire. Io penso che il web sia già la nuova tv, tutto cambia per non cambiare. Purtroppo, e qui chiudo con una nota drammatica se vogliamo, il mio più grande rimpianto è quello di non essere riuscito ad intervistare Richard Benson, che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni prima dell'intervista che avevamo concordato su Twitch. Un saluto ai lettori di Fanpage. Grazie a tutti.